Allora, adesso vi presentiamo un ballo campedanese che sarà protagonista della chitarra con un'accordatura particolare, è proprio un tipo di accordatura che si sono inventati i sardi campedanesi per cercare di eseguire quanto più da vicino le antiche melodie delle launetas, infatti c'è un doppio passo continuo quasi a voler eseguire il suono del sudumbo delle launetas, quindi è una tecnica molto particolare del pizzicato, la chiamiamo noi con una accordatura libera, sono pochissimi suonatori che ancora praticano questa tecnica e quindi io ci tengo molto, ogni volta che facciamo dei concerti ce lo permettono di eseguire questo brano che ritengo sia un dovere proprio salvarlo, insomma, io l'avevo imparato da un noto suonatore di Mara Caragonis, Giuseppe Gianna, Cucodrillo di Serriano, che devo conoscerlo, non manco di conoscerlo, ballo e salto la chitarra e poi si aggiungeranno i compagni di viaggio. Grazie. 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 Grazie.